La pubblica amministrazione italiana è la più vecchia d'Europa e anche quella che ha meno dipendenti in Europa, quindi abbiamo bisogno assolutamente di un ricambio, ultimamente c'è stato finalmente, dopo anni e anni in cui non si assumeva nessuno, uno sblocco del turnover, noi calcoliamo che circa un milione di dipendenti pubblici, cioè un terzo di tutti i dipendenti pubblici andranno in pensione nei prossimi dieci anni a essere ottimisti, più realisticamente nei prossimi otto anni, quindi abbiamo bisogno di un ricambio molto molto ampio, stiamo parlando di circa 170, 180 mila, 200 mila persone l'anno da assumere. Si può fare, si può fare se non ci facciamo prendere dalla fretta di farlo facendolo in fretta, facendolo male, ma partendo dai bisogni delle amministrazioni che devono ripensare profondamente le ragioni stesse della loro esistenza, qual è la loro missione, qual è il bisogno che vanno a coprire, quali sono le grandi missioni strategiche a cui possono cercare di dare risposta. Se faranno questo faranno un piano di far bisogno del personale sensato e se faranno un piano di far bisogno sensato faranno dei concorsi che hanno la loro ragion d'essere, c'è la possibilità di farli bene, ci sono strumenti per farli bene, ci sono esempi in Italia in cui si possono far bene, questo ricambio è fondamentale, le persone che entreranno adesso rimarranno nell'amministrazione per decenni, non possiamo sprecare questa occasione. I giovani chiedono quello che chiedono in generale, cioè di essere apprezzati, valorizzati e di contare, di far sì che le competenze che hanno acquisito nella vita, ma anche gli obiettivi di cambiamento del mondo che hanno nel loro cuore possono trovare un'accoglienza e la PIA è ovviamente molto più di tanti altri luoghi di lavoro, un luogo dove si può avere un'enorme influenza e loro chiedono che questa vi sia, chiedono di sapere quale compito di verrà loro assegnato, cosa che spesso la PIA non è in grado di dire perché non ha definito in modo appropriato perché li sta assumendo. chiedono che venga costruito per loro un rapporto con quelli che trovano, cioè con la vecchia generazione, quindi chiedono di imparare anche e di poter però essere ascoltati dai vecchi sulle cose più forti e chiedono anche, ma solo dopo un po', di avere una prospettiva di carriera. La PIA fatica a fare tutte queste cose. Entrare nella prima amministrazione è la cosa più semplice, la domanda è molto alta, nei prossimi anni sarà particolarmente alta perché c'è l'uscita delle generazioni che erano entrate negli anni 70, c'è un portale in cui puoi sapere se vuoi quali posti sono disponibili, in cui puoi leggere i bandi, il tema vero è di non essere scoraggiati dai bandi che leggi, se il bando è generico, se la sensazione che hai che l'unica cosa che ti viene offerta è uno stipendio fisso, la parte migliore dei giovani deciderà di non farlo quel bando. Facile quindi accedere, difficile essere trattenuti a farlo. La pubblica amministrazione ha bisogno di persone che siano in grado di dialogare con i cittadini e le cittadine, perché l'amministrazione è sempre di più un'amministrazione partecipata, che non siano spaventati davanti alla indicazione di realizzare e di concertare progetti con le organizzazioni del terzo settore o addirittura di dialogare con un'impresa che fa paura perché hai la preoccupazione che qualcuno magari dirà che sei stato colluso. Quindi persone che abbiano non soltanto una grande competenza, ma anche una capacità organizzativa, una capacità di disegno progettuale, una capacità di dialogo, una capacità di chiudere una conversazione complessa con una decisione.